Eeeh, buongiorno! Buongiorno! Non ho fatto la storia! Merda! Buongiorno, oggi si va in live, ma soprattutto si va in ferie per raggiungerci qui, sì, col turista. Buongiorno! Buongiorno! Come andiamo? Aspettate un attimo che ho avuto un'idea. Ok. Questo, questo. Dovrei avercelo in lista. Eccolo qua. Eccolo qui. Installa. Installa. Accetta. Fatemi scaricare un gioco. Devo fare un test. King of the Castle, fammi aprire. King of the Castle. Eccolo qua. Allora, forse riesco a tradurre Low Morning Simulator. Che non sarebbe male. Che dite? Potrebbe essere un gioco carino, un po' estivo. Risolto per un incidente di sabato. Allora, la telecamera non so ancora se ha riscontrato problemi. Sembra andare, ma non ho... La devo usare oggi, quindi lo scoprirò oggi. Non si sa. Il cavo si è rotto e ne ho comprato uno nuovo. Fede Zamparo. Ciao, signor Gatto. Quest'anno è stato importante. Finita la scuola, ora si lavora. Cresciuti siamo i tuoi video. Comunque, 77 su 100. L'amatura, complimenti e grazie mille. Grazie a Falls. Buongiorno, buon secondo superversario. Grazie per i 20 mesi. Grazie a Clemblitz. Grazie a 77, come le gambe delle donne. Non ho controllato di recente, ma si dice la smorfia napoletana. Non lo so, non lo so. Mi fido, mi fido. Grazie a Elzok, per i 73 mesi. Aimnun, per i 42. A Ciderbolina, come passa il tempo. È già passato un mese dall'ultima volta che dissi che per impegni lavorativi non riesco a seguirla come un tempo. Anche questo mese è stato così, ma in ogni caso la sub non può mancare. Grazie mille. Allora, abbiamo un po' di cose da dire. Prima di tutto c'è stato il drop. Da 4000 siamo scesi un pochino e ho messo l'obiettivo alle 3600. Però eravamo a 3500 quando l'ho messo e qua saremmo in caduta libera, mi sa. Quindi se volete rinnovare, fatelo. Basta solo che vi ricordiate di rinnovare, ok? Grazie a Little Rea per i 18 mesi. Quindi bisogna, insomma, questa è anche bisogno. Se volete ricordatevi di rinnovare perché siamo ormai in caduta libera. Io l'ho abbassato un po' l'obiettivo, però vorrei mantenerlo comunque lì. Detto questo, grazie mille a Spettro per la sub. Dobbiamo recuperare il fatto che non abbiamo fatto il modday il mese scorso. Quindi tutta questa settimana, ovviamente da lunedì a venerdì, sarà modday tutte le mattine. Quindi tutte le donazioni che farete saranno per i moderatori. Ok, di tutta la settimana. La mattina. Non metto la sera perché la sera forse registro qualcosina. Modweek Morning, esattamente, esattamente. Quindi basta, questo c'è da dire. Allora, datemi un secondo che devo aprire questo. Incolla. Ok. Facciamo così. Vi piace? Sono contento che vi piaccia. Datemi un secondo che devo fare un paio di robe qua per vedere se funziona. Devo aprire un po' di più la porta. Ma c'è il bagno a terzo lì. Tu devi essere igolo. No, si pronuncia. Si schiuma dal caldo in questa casa. Eccomi qua. Jonathan, grazie per i 65 mesi e grazie a Neryl per i 54. Ok. Scusatemi. Eh, qua non si è risolta come avrei voluto però. E dove cazzo è? E dove cazzo è? Vediamo. Coppia. Incolla. Andiamo così. Sto cercando di tradurre Hello Morning 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 Simulator. Però sembrerebbe che non accetti questa cosa. Scusate l'audio. Adesso cerco di abbassarlo. 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 Grazie a tutti. 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 Il problema è che c'è tanta roba da leggere. E rinnovate, mancano 30 secondi, dai che recuperiamo, torniamo almeno alle 3.500, così abbiamo, eh? Almeno alle 3.500 ci torniamo? Forza e coraggio. 20 rinnovate, siamo a 289, non ci credo che avete rinnovato tutti. Provateci. Non mi fai rinnovare con Prime. E tu falla da 6 mesi in 6 mesi, che è meglio del Prime. Costa meno. E anche se te lo dimentichi, non importa. Iomagus, buongiorno. Eccomi presente anche per questo mesiversario. Buona giornata, grazie per la sua compagnia, grazie mille a lei. Ed è finito il treno, niente. Non so cos'altro. Allora, stamattina volevo giocare a Summer Memories. Però mi ha messo i dubbi. Rischi qua, rischi là. No, va, non va. Tutti bannano. Boh, allora, il gioco è completamente pulito in realtà. Però, che dobbiamo fare? Non rischio. Quindi niente Summer Memories stamattina. Ma giocheremo a The Tourist. Io in realtà vorrei anche chiedervi... Tanto vi ricordo che tutte le donazioni vanno in moderatori. Tutte queste mattine. Volevo anche chiedervi, un gioco a tema estivo... Fine. Ce lo avete? Sto guardando qui se c'era qualcosa. Aggiornamenti strani di roba. Al solito Mario Sunshine, Zelda Wind Waker che abbiamo già giocato. WeSport Resort. Ottima idea da fare in live, capito. Piripiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip spegnere e chiudere la spa se piove no, allora ragazzi non cominciamo a dar consigli tipo diabolo, non c'entra niente ripo, riformulo perché ho ricevuto dei commenti un po' della minchia anche su Instagram videogiochi a tema estivo esempi, Super Mario Sunshine è perfetto, The Tourist che giochiamo stamattina è perfetto ma anche un gioco di imposti torpedia tipo Far Cry 3 ok? quel tipo di cose lì meglio come Wii Sport Resort è perfetto, sì non lo giocherò in live per ovvi motivi, tre ore di quello dovete un attimino dare anche dei consigli che possano essere attuabili bello far credere vecchiato Power Wash continua ad aggiornarlo però mi sa che abbiamo già dato con Power Wash a 7000 sabri grazie a Des per gli undici mesi già giocato a Short Hike molto bello e molto short anche molto high ah sì, mi ricordo si stagano mai chiesto quali giochi giochiamo d'estate e non giochete mai estate probabilmente vi sono spiegato male aspetta che mi riascolto qual è il vostro gioco io vorrei un gioco che chiama l'estate è vero, effettivamente poteva essere fraintendibile stamattina no però ho detto gioco che chiama l'estate per me era ovvio ma era fraintendibile Dead or Alive Extreme Beach Volleyball adesso che mi hai consigliato questo gioco ti immagini una live che dura 3 ore di quello tutte le mattine Dave the Diver lo sto aspettando che arriverà l'italiano quello l'hanno hanno detto aggiungerà l'italiano il francese il francese l'hanno aggiunto certo che voglio farci una serie Gabriel ma comunque Dead or Alive per più di 20 minuti ci spacchiamo le palle grazie a Binana per i 14 mesi Dave the Diver arriva arriva eh il primo di Thailand è molto vecchio sì Wind Waker è già fatto Mario Galaxy danno molte idee d'estate non so perché però non so veramente perché hanno vabbè allora facciamo che non vi cago mai più è che dobbiamo fare scusatemi se vi ho chiesto vi chiedo scusa vi chiedo scusa non volevo non volevo mettermi in mezzo mi arrangio a posto grazie allora stamattina giochiamo a The Tourist Zinghito Simulator sarebbe molto bello che è una molto anche quello ottimo titolo tra l'altro vabbè ragazzi basta non serve più non serve più non importa tranquilli fate finta che non vi abbia chiesto un cazzo devo passare un po' l'audio Zwin grazie per i 21 mesi l'audio non si abbassa da qua lo abbasserò dal mixer allora scusami un attimo perché qui non è giusto fermi tutti strano vabbè The Tourist ecco qui va bene un po' più basso piazza Ready ma il 27 è un numero carino è molto carino sì grazie mille forse ancora un po' altino qualche sull'aria della standard dipper se me lo trovi ti do un bacio mi piacerebbe un sacco così sembra ok vediamo un po' in game per posto uso e consumo questo è un gioco a tema estivo che mi dice il signore si prende lo suo tempo si riposi si gode il soggiorno sull'isola io resterò qui ad attenderla bene grazie è ben gentile questo signore qual è fammi vedere se qua ha delle opzioni ho più opzioni no ah c'è opzioni video volendo schermo intero ok qualità delle ombre alto oh dai adesso si che gioco cambia mettete di camera lingua perfetto un messaggio in the battle non battle messaggio in the battle è un frammento di una guida di viaggio si ma posso accedervi in qualche modo ah ah devo trovare forse tutti e quattro devo trovare abbiamo anche la stessa camicia hai visto? allora ragazzi basta consigli ok ve l'ho detto non lo ripeto più donate per i moderatori piuttosto sono un turista vecchio e saggio che cazzo vuol dire un turista vecchio e saggio cosa che qualifica è? vabbè so che si nasconde un segreto di sotto di quest'isola e a te piacciono i segreti o sbaglio? ma cosa ne sa lui? cosa vuole? ah no però sto all'ombra meglio che bello vado a parlare col bagnino magari ne sa buongiorno per i cosi non lo tali allargo resi di prossimità della riva beh è un giusto consiglio però devo vedere se ci sono altre oh 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 game changer ok ok perfetto non sapevo se ci fosse un cambio di visuale ho sentito che in cima a Tawa Monument c'è una vista mozzafiato non c'è arrivo qua forse facendo così uh carino che c'è la fisica di quello no no non si fa tutto troppo distante ma è voluto che non ci possa arrivare non lo so vabbè qui cosa c'è? benvenuti al resort tourist island posso avere quel soldino questo lo prendo e anche quello là mi sa cos'è stato? c'è un co guarda però una volta sola lo fa è la prospettiva canaglia no come funziona allora scusami no difficilissimo arriva eh ok e abbiamo un soldino del subito del subito super mario si mi sta venendo proprio la voglia di sunshine adesso no non mi posso sdraiare a letto ah ecco ecco io in ferie c'è un nest lì si si può ruotare la visuale ma non è esattamente questo sono io in ferie sempre io per far vedere che funziona aberto perché gli americani non si fidano andiamo a vedere di qua perché non si ah perché non si fidano del cos'intergibile come l'aria esatto il rumore è giusto ah ma è un letto questo posso farmi la doccia beh 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 ok cos'è questo macchina di temporamento fuori servizio una piccata libera per turisti oh vai 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 power up salta e raggiungi il bordo per aggrapparti automaticamente premi B per mollare la presa yes macchina fotografica non posso non posso potreste sto negozio ma vabbè game changer allora di lì c'è il cimitero e di qui la montagna credo che la montagna sia importante non si può correre un po' no andiamo al cimitero perché c'è un cimitero in un villaggio a vacanze vabbè c'è qualcuno che muore anche in ferie giustamente io eccomi qua Tony Monument gli autocrini sono convinti che questa struttura in pietra sia la chiave per un mondo segreto che manchino dei pezzi o forse è una sequenza vabbè vabbè ricordiamoci questa cosa qui qui non è un cimitero sembrerebbe di no Atos grazie per i quattro mesi buongiorno vi ricordo che tutto questa tutta questa settimana sarà dedicata ai moderatori tutte le mattine quindi rinnovate rinnovate cioè donate donate per i moderatori eccoci qua vedi perfetto allora uno due e tre era questo no no era il contrario era il contrario aspettate perché giustamente erano in fuori ah si mi ricordo malpensante grazie per dieci mesi tower amendment boh abbiamo i soldi per la macchina fotografica adesso vedete voglio giochi con questo mood qui io fuso grazie per i diciannove mesi sempre il migliore di tre o questo oppure anche a stand and deep sarebbe perfetto però ai 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 scusi signore dica 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 perché dice sempre diciotto ecco è un altro che se va i cazzi su a 19 19 ah carino ok 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 cosa sta facendo terrificante è difficile lo so lo so prendo perdonami minkets ma stray che cazzo c'entra perché mi sta bene che vogliate dare consigli ma ho appena spiegato più e più volte che cosa perché mi hai consigliato stray cioè che cosa che cosa ha ha illuminato la tua mente dicendo cazzo stray è il gioco che gatto sta cercando adesso ti prego me lo devi dire perché io non riesco a trovare un motivo e ci siamo andati sotto una montagna perché poi dopo mi incazzo e si che mi incazzo perché non non è possibile non non ascoltare quello che sto dicendo questo è il turista esperto ben fatto hai attraversato l'entrata segreta del monumento spero che tu non abbia incontrato problemi ma quindi lui ne sapeva quella specie di serpente era di certo una cosa inquietante dice lui è il turista anziano ma anche si definiva esperto no sinceramente non me ne frega più di tanto che gioco il gatto deve giocare sono entrato ho sentito mood e quello che ho sentito io di mood è vicino a stray cosa allora intanto scrivi bene mikhets ma due che cazzo dici cosa vuol dire mood quanto generico mood cosa vuol dire mood quale mood ho detto mood estivo vabbè quella fare una sentinela cerchi di non incrociare il loro percorso quando sarei pronto e tiro di più a riguardo va bene allora in merito di altre domande vabbè saremo sul piedistare luminoso questo qua che gioco di luce questa proiezione olografica sembra affigurare altro monumento sì però mi sono spostato ok grazie che mi dà ibiza people from ibiza sì ok ci sono quattro colonne e una roba centrale ah c'è una lista delle missioni addirittura vedi un po' e come fa ah devo andare giù non me la fa selezionare però col mouse no 4 luoghi monumento e porta il turista anziano ok però ibiza ah forse è un nuovo posto dove posso banalmente andare ah perché adesso siamo tourist island e noi dobbiamo andare ad ibiza immagino di dover tornare dal bar carolo credo sia entrato molto dopo la richiesta e stesse dicendo che quello che vedeva schermo gli ha ricordato stray è impossibile anche questo è impossibile ok facciamo così ah vedi che andiamo a ibiza ibiza la macchina fotografica costava 5 hai ragione aspetta aspetta adesso vedi che c'è un negozio anche di ibiza non l'ho creato non l'ho creato io il pg è yibiza è yibiza si dice yibiza perché la y yibiza aspetta ecco qua premis per utilizzare la macchina fotografica guadagna denaro con le tue foto e immortala per semplicemente può essere usata solo all'esterno ok dimmi di più nuove foto per le mie cartoline monumenti sarebbe il soggetto ideale ok quindi a questo punto io direi di fotografare questo monumento qua no tower eh massimo esperto cazzo se ti piace far festa allora questo è il posto giusto ah me la immaginavo andiamo a vendere la fotografia gioco dovevi costruire la ferrovia per il treno che va avanti da solo questo gioco qua oddio sai che non mi ricordo di che gioco parli mi ha dato quattro soldini mi ha dato mi piace un sacco il ciuffo ecco qua dai c'era uno lì sopra avete visto sopra la torre ibiza aspetta che eh vedi che lì c'è una torre da fotografare rock ma che nome è vabbè anche quella sarà una roba da fotografare no mazza che zoom comunque complimenti che teleobiettivo qua fanno l'acqua gym oh guardate che le cartone si fanno con le palme in mezzo perché ti fa capire dove sei è morto questo è uguale io dj bliss bliss beats però non mi sembrano molto allegri cos'è ahhh sto aumentando il party accendendo le luci guarda sulle mani pizza cos'è qua che usa macchina del fumo non ho tempo di parlare prima di occuparmi di ravvivare questa festa e lo sto facendo io eh però basta manca ancora qualcosa forse e non so cosa però eh l'ho già raggiunto il massimo col fumo eh non vanno stavo pensando la stessa cosa ahhh ecco il cavo delle casse ahhh adesso senti come pompa dove è l'altro cavo stavo cercando un interruttore però effettivamente non c'era come tira no ah tira ah tira nel senso che lo sradico scusate ma non hanno fatto un sound check se avete bisogno di un party planner sono qui adorami di j7 insomma ho solamente questo brano che si ripete all'infinito va bene l'impianto non sembra la norma sicuramente non lo è allora raft mi ha fatto veramente cagare fedez ma veramente tanto perché è un gioco che aveva un setting che hanno trasformato in qualcos'altro ho apprezzato l'idea di farlo ma non è non è riuscito dove avrebbe dovuto oh no mi dispiace eh stand in the deep l'abbiamo già giocato per rigiocare un survival così eh credo che il problema sia che mentalmente sappiamo già tutto quello che dobbiamo fare esattamente come rigiocarci Stardew Valley e quindi ci viene da correre no ok devo fare questo devo fare quello devo fare quell'altro non è bello uguale rigiocare un survival purtroppo eri grazie per i 66 mesi ciao lui è questa zona è un elemento per giocatori di calcio professionisti in vacanza molto specifico qui non ci viene nessuno vorrei allenarmi e qui come lo faccio dimostra l'allenatore di essere un esperto di calcio e cosa gli dico lui c'è la maglietta dell'argentina io ho chiellini su Roblox è vero è vero è un afta che mi sta facendo un male cane ormai da quattro giorni mi sta facendo malissimo quella interna quella dentro la bocca cioè tra i denti non mi dà troppo fastidio quella sul labbro sto veramente soffrendo paura e panico ah sull'albero lui non si appiccica ho capito mazza è sembrato un po' eccessivo tutto il salto no ma com'è che funziona questo rimbalzo ah devo tenere premuto ok questo è qui cosa dell'umido e il cesso l'ho fatta un soldino volete la capanna del frappè sono terribilmente dispiaciute ma non abbiamo più frutta beh ma mamma va bene mi serve una fragola e un cocomero tondo tondo che voleva essere il più grande del mondo hai capito lì però ci arrivo ci arrivo ci arrivo ci arrivo non ci arrivo non ci arrivo molto bello vero eh sì non lo stavo giocando perché non ha l'italiano ma visto che io sono un fenomeno l'ho tradotto in italiano qua c'è una crepa chiaramente si può fare qualcosa eh far crit però è invecchiato far crit mannaggia però un pensiero ce lo potremmo anche fare questo cerca vi ricordate quando abbiamo fatto il trova tesori simulator si ma io come faccio a trovarla cioè ah c'è così soldino ammazza un botto altro che soldino pensate come rosica quello lì che li ho rubati da da sotto il naso questa è versione pc certo buongiorno rock monument sono mortificato ma ora siamo temporaneamente chiusi per il party è importante però va bene forse poterlo fare un piccolo favore ma qua è tutto umma umma a parte il fatto che so tutto è fetch quest però vabbè per un gioco così non mi da neanche troppo fastidio lui vuole la bevanda è veramente una fetch quest sì no ok mi serve una fragola e un cocomero dove ne trovo queste robe ah ecco la fragola eh prima Dead Island però insomma quello sì che è invecchiato parecchio ok mi trovo il cocomero adesso l'anguria però io sono tipo da melone il melone spacca il culo all'anguria sia come sapore ma anche soprattutto come fruizione d'uso un'altra fragola Domi sono 41 con i giorni che mancano alla fine alle mie ferie dai eh non pensare non pensare quanto manca pensa che arrivano meno male che lei mi fa compagnia durante questa giornata lavorativa estiva grazie mille sbagliato un trigger qua ho visto male sto male eccolo qua eccolo qua troppo dolce melone che intendi che intendi per fruizione che il melone lo mangi l'anguria la mangi devi sputare i semi peter pad grazie per i 24 mesi a due meloni cioè due 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 anguri scusa cazzo proprio due fragole però signora non è meglio quel che gioco pokemon eh ma è poco estivo un gioco pokemon cioè insomma olè ma cazzo ce n'è uno anche qui vabbè è il cocomero dietro l'albero e il trigger infatti vabbè un po' che mi stai giando però insomma è cioè a questo punto se dobbia giocare giochi della minchia chi è bene ah devo pagare no è gratis però ecco qua siamo la frutta non mi ricordo quando esce l'espansione di pokemon comunque si è vero sembrava da festival va bene comunque non è esattamente il massimo questo questa cosa qua eh che per farmi passare ti devo corrompere con un frappè eh insomma eh cos'è un sasso ah servirà servirà assicuro che servirà guarda perché va a peso sta roba qua no ma perché darmi i sassi se non servono secondo me secondo me sto scoprendo qualcosa nel cimepilazzo non ci posso arrivare Ricky ci ho pensato anch'io c'è qualcosa lì però non so se posso lanciargli il sasso mi sembra un po' strano ah non ci arrivo ah no fermi 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 ma è facilissimo è facilissimo ok ok ho appena il soldino prima adesso ho visto i puntini adesso li ho visti il soldino ah cazzo yeah no me li so scordati ma per sempre proprio questo è proprio un gioco da ombrellone comunque anche come non solo per i temi trattati però è carino è molto carino molto carino infatti credo che il suo meglio lo dia proprio su switch sotto l'ombrellone che non vedi un cazzo però che devo fare ah ah purtroppo forse no ah no ma lo sto facendo da solo non sono io che lo contro ok io non so ho detto qua oh ok ok ce l'avevo preso no arca troia mi ha preso che cragnata ah ok me lo dà già buono ottimo ottimo anche questo ottimo sapete allora il problema è che ho raccolto uno e ho detto ah allora li sto controllando io spostando invece non era vero niente perché mi sono mosso verso di là e ho detto ma come ho fatto ad ordinarli così invece non era vero oh piano eh e c'è un piccolo problema di prospettiva qui però ah va beh se per questo è pure pezzo di merda però non è colpa di nessuno e allora no ok uno è difficilissimo eh ok no ah ah neee ok che fatica che fatica adesso si sa cosa serviva il cimitero per i turisti yeee anche the witness già fatto sì certo hai ragione garca puttana come faccio quando salto bastardo aaa b no quindi ok nucleo del monumento oh il super campione eh ecate buongiorno gattone si rinnova all'ufficio senza aria condizionata ventilatore ci porti un po' di fresco scusi signore dica 18 dica dica perché dice sempre 18 ecco un altro che ci fa i cazzi su a 19 19 una foto di energia ancestrale portalo la Taua Monument nella Tourist Island ma che pare che c'è il tipo che ripara adesso addirittura ci ha messo la chiusura ma del risultato i monumenti mi sembra essere la moda in questi tempi ma sono assicurato mi sono assicurato di mettere in sicurezza oh no non fa mi butto allora che me frega ah no pensavo dicesse qualcosa a riguardo del danno spascio che abbastanza malissimo si però purtroppo è una rottura di coglioni infinita perché è uno dei miei giochi preferiti ma le orde mamma mia le orde eccoci qua e il vecchio dov'è? tra l'altro non abbiamo neanche rotto il fianco della cosa forse perché non abbiamo un lanciarazzi non lo so gli vendo la figurina qui oh siamo in vacanza ma stiamo facendo più soldi di quando lavoriamo credo non so che lavoro faccia però qui o era o era qui sulla spiaggia il vecchio no non c'è più anche la signorina si è spostata era lì in fondo per giocare un vecchio animal eh l'abbiamo già fatto eh sì è vero no sta parlando proprio di me è che animal comunque non ci impegna più di tanto tempo oh vero che ci sono le improntine qui ah vedi eccolo poi giù il suo piede sta allo luminoso come si fa ah fa lui brisichella grazie per te sei mesi si direbbe che avranno bisogno gli altri tre nuclei per farlo funzionare vai dove andiamo adesso santorini che è vicino caorle il nostro prossimo obiettivo è beh sembrava un pesce ok ok lui continua a dirmi che mi deve dire il segreto dell'isola ma a me ma che cazzo me ne frega sono qui in ferie santorini in grecia è vicino a caorle via via obblà ha subito la foto guarda qui guarda qui no non a quello a che cazzo devo fare la foto al signore com'è il signore ma cosa me ne frega fare la foto al signore allora facciamo la foto a zea eccola là bellissima chi è questo signore qui a quello del peschereccio devo fargli la foto ma è uno sfigato guarda claude che cazzo è claude van d'am jean claude ragazzi avete rovinato tutte le strade qua anche lui devo fare la foto no lui no club vestito in modo opportuno e non lo sono discriminazione vestitoria bello quello faccio la foto oh 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 si mi segna qualcosa ma non vedo no ok è bloccato tutto qui ma non si attacca qua ok e non so se si può fare la foto sentite il piripiri però non va vabbè mazza che tristezza rubiamo i soldi alla gente le zone di immersione a santorini il mondo sottomarino di santorini è affascinante il fatto che ai pesci piaccia avvicinarsi sommozzatori è degno di nota poiché questo non corrisponde al loro comportamento naturale è troppo così è un gestionare è un gestionare volevo qualcosa di volevo sentire il profumo di vacanza anche su Stranded Deep andava bene sono sulle mie nave preparare la prossima missione sessione di immersioni va bene andiamo a vedere se si può fare non è caro e le garantisco che non rimarrà deluso dai questo gioco è il sostegno che non c'è in italiano ma se cerchi bene lo trovi è tutto bellissimo comunque c'è questo voxel però non è statico è tutto in movimento ed è molto molto bello molto molto bello The Survivalist The Survivalist qual era? quello con le scimmie? perché se era quello con le scimmie me lo ricordo brutto in culo eh appunto sì no 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 non è per me eh voglio fare l'immersione ah ok vado così? vado bellissimo cioè guarda quanta roba diversa possiamo fare in questo giochino ma se volessi tornare su chiedo non è che voglio farlo è una domanda la mia guarda una roba appunto la Wii Sport che abbiamo giocato anche una roba tipo Wii Sport madonna i pici pagliacci più grandi del mondo che era sport resort qualche oh no guarda è qui che dovevamo venire e i pesci mi seguono vedi mi scomoda sta cosa oh ragazzo c'è un pari qui eh tutti 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 proprio devo prontarci pronto di cazzo vabbè questo non ci vuole andare quello in alto non lo conta non so perché ok forse se lo conterà ok perfetto manca uno si vi grazie per i 20 mesi eh go vacation esattamente quello Gabriel dai pesce del cazzo vieni qua perché non lo prende vabbè no come salgo ma ci sarà modo per andare su e giù solo che non me l'ha detto ah ok più premo e più faccio ok interessante però ci sono altri tre pezzi che rottore di coglioni eh lo dico che rottore di coglioni farlo tre volte questo non serviva proprio è stato un incubo la prima di qua c'è un ancora perché ah ok ecco ecco the dolphin oh dai non farlo stronzo eri qui ok e adesso dobbiamo andare di qua lamejack buongiorno sfrutto questo appuntamento mensile perché è una benedizione per l'esame che da lunedì prossimo io le auguro tantissimi auguri allora grazie mille grazie anche a michelag per i 24 mesi qua manca il pesce ce la farò no beh più o meno diciamo che l'abbiamo fatto la cosa migliore serve appunto un survival alla stranded deep ma non esistono più quindi boh sto aspettando un po' la traduzione di Dave che dovrebbe arrivare spero no l'ho tradotto con una mod semplicemente la traduzione della switch installata su su pg installata copiata e incollata breakwaters non mi attira per nulla devo dirti e poi il fatto che sia in accesso anticipato mi attira ancora di meno oh le che l'abbiamo dato qua beh è stato più veloce di quanto sembrasse ah ok e adesso attiva quel pesce lì che culo che sono andato prima a fare l'immersione non è che nella categoria divertente di sim si suggerisca anche pornazzi no perché di solito non sono per niente divertenti a parte Summer Memories che io continuo a consigliarvi di tutto cuore solo che dopo averlo comprato su Steam dovete scaricare la patch dal sito di Kagura Games mio Dio che male che mi fa sta roba lo chiamano? non riesco anche a spruzzarmi bene perché sul labbro Axel yes consigli per la nostra prossima isola? certo no aspetta eh non lo so cosa mi conviene Ibiza? ok ah si mi ricordo ok no ok deve essere un nuovo punto di viaggio questa coppia Alessandro due mesi buongiorno come va? tutto bene grazie e lei? un soldino ho visto dopo e adesso? molto difficile accendere il monumento senza quella passerella forse questo è un doppio salto? ah eh però però così è un po' una stronzata il fatto che mi costringa a tornare all'isola di partenza per fare per comprare i potenziamenti però vabbè un gioco è un gioco un gioco ambientato sull'isola che parla di pirati se parli di monkey island col cazzo che lo rigioco Gabriel marcia veloce per turisti tiene il premuto rb mentre se in movimento per correre tiene il premuto rb da fermo per accumulare veloce sonic ho capito però perché rigiocare monkey island perché è veramente poco rigiocabile ragazzi cercate su steam italiano vedete che lo trovate nelle discussioni di steam mi serve qualcosa a correre qua non mi pare forse per prendere questo di ogni no l'ho preso uguale quindi non mi serve a finire forse faccio vedere che sono giocatori di calcio professionista se corro secondo voi è di bizza vorrei andare a vedere non è rigiocabile monkey island dai pochi cazzi già ho delle remore rigiocare i survival o alcuni giochi puzzle però c'è monkey island che cosa c'è di rigiocabile con questo mindset qualsiasi gioco è poco rigiocabile ho capito ma oh vedi c'è monkey island si basa su degli enigmi delle storie cioè è tutto scritto cosa me ne faccio del vaso non avrei dovuto ah no ecco qua ma perché a me dovresti portare un curatore museale non ce n'è troppo bene e allora taggalo Ricky non è che mi devi dire stai calmo hai scritto in chat mentre sto parlando io scusami eh cozy groove era bruttino se non ricordo male era un fake animal cross cioè è un animal cross in wannabe Dave the diver sto aspettando che lo metti in italiano Leonard allora aspetta che gli dimostro guarda che fenomeno guarda che fenomeno ah sai cosa forse mi serve il cocomero zeigel tante care cose anche a lei grazie mille mi sa che mi serve il cocomero sapete ma ritornano i soldi poi no cos'è molto diverso di sandbox ecco sicuramente da 20 minuti al giorno esatto è un animal crossing wannabe ok fatto 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 ma che non puoi rigiocarlo ma non c'è nulla di nuovo se tutti in enigmi eh lo so però non è una roba esprit che mi viene da dire cazzo ci faccio di nuovo la serie in live almeno se rigioco un mario c'è un po' la sfida del platforming però un'avventura grafica insomma o rigiochi un'avventura grafica cui hai dimenticato completamente tutto una catamari dopo mezz'ora ci si è rotto il cazzo ciccio guarda 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 che fenomeno guarda che fenomeno del pallone guarda 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 no hai visto rimessa laterale vabbè ci ho provato muro quel cocumero beh voglio vederti correre su un cocumero alto che ti arriva la pancia via via andiamo a santorini è veramente molto bello è veramente molto bello graficamente poi come gioco è proprio un gioco da ombrellone pochissimissimissime pretese tante chicche molto carine non speciale però si sta lasciando giocare che è un piacere si va via proprio belli spediti è proprio un bel giochino devo saltare come faccio scusi beh c'ero quasi però non si appende però scusami detto un po' così non si non si vabbè Ok Più o meno Mi intrighi Alex Con Mega Aquarium Ah ho capito Ma scusa non è un gioco per il cellulare Mega Aquarium Me lo tengo lì è carino Immaginavo Ulala Molto bello Molto bello Nooo Mi è caduto il sasso Mi ha nascosto la mano Devo lanciarlo per forza Come cazzo faccio Scusami eh Poi se faccio così cade Ma vaffanculo Vabbè Forse prima è perché l'avevo messo troppo in là Vabbè People from Ibiza Non è uno dei giochi estivi che è stato considerato su Instagram Perché mi sono spiegato male su Instagram a quanto pare Nooo Devo rifarlo Che palle Mi sono spiegato male su Instagram Io volevo un gioco a tema estivo La gente ha capito che io volevo sapere il gioco che Loro giocano d'estate Eh mi sono spiegato male io E chiedo scusa di questa cosa qua No Perché è colpa mia C'è pochi cazzi Eh l'ho capito male tutti Beh ma era fraintendibile Riascoltandola era fraintendibile Quindi ho sbagliato io Oh Ha scattato eh Che paura Basta che salta No Oh no il verme Porca puttana come mi ha squizzato via Questo è stronzo ve lo dico io Ah Grazie No L'aveva risolta Eh No Non maleducare Eh lui maleduca Dai però Beh sì però sei un pezzo di merda Eh Lasciatelo dire Sei un verme Pezzo di merda Che è un insulto doppio Ma dai Fastidioso Fastidioso Capito ma In idea del cazzo questo nemico Allora Dai Dai Togliti Ma dai ma ho appena risolto Ma guarda che se ne hai rubato uno poi E adesso Dai vero Guarda te Guarda oh E dai No vabbè Questo Questo è merda però Questo è merda Non è Non è divertente Non è per niente divertente Fa schifo e basta Devo fare la roba velocemente Prima che lui tolga tutto Fa schifo Guarda No 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 Lo mollo Non sto schifando Lo mollo Se non trovo una soluzione sensata A questo enigma qui Lo mollo Perché fa schifo Devo semplicemente farlo velocemente Se devo semplicemente farlo velocemente Non ti dai de merda Ma guarda te Ma che schifo Ma perché se lo sono inventati Era tutto carino fino adesso Gioco da spiaggia Una merda Dai Un gioco rovinato da una cazzata Guarda Non c'è modo per fermare E non lo so Forse se glielo tiro in faccia Ma mi sembra strano No Non ci prenderei mai Tra l'altro Andiamo Correndogli in faccia Così No No Fa proprio schifo ragazzi Guarda E vabbè ma Ma non è possibile Dai Ne manca uno Tra l'altro E' sparito un sasso Sarà qua dietro? No E' fastidiosissimo Ma si può rovinare Un gioco così? Anche perché Non è che L'appoggia proprio In maniera comoda La cosa qua Guarda No Vedi che Non lo mette Neanche giusto E adesso Li toglie tutti Porca di quella puttana Io spero che non ce ne siano altri così Perché Questo è il punto più basso in assoluto Di questo gioco Ma Non solo Cioè Boh Si può tramortirlo? Ma non lo so Non me lo fa fare Cioè Forse lanciandogli questo Ma Come ci prendo? E' impossibile No Non lo posso tramortire Voglio una soluzione Si Alla Mario salto in testa Si ma il gioco Non me l'ha spiegato Fino adesso Che potevo farlo Se si può fare quello E come ci dovrei arrivare Posso andare sulla piattaforma E lui si ferma Si ma per quanto Eh ma si ferma per niente Non si ferma Non è la soluzione A meno che Non debba Piazzarci questo No Vedi Non posso Vediamo tre sassi Zero Devo alzarmi io Ma non è la soluzione Questa cosa qua Poi se lanci i sassi Funziona? Cioè Lo fa? Vabbè E' impossibile Essere precisi Se lancio Se appoggio un oggetto Se lo lancio Invece Fa il fenomeno Copy Bryant Togliti Grazie Non ci sarei mai Non ci sarei mai Arrivato Una roba del genere Devo aspettare Che si tolga Dalla linea di tiro Che sciocchezza Che sciocchezza Ecco adesso Quello lì è troppo distante Mi metto un po' più in qua Oh Benissimo Me la rischio? Magia nera Magia nera questa Finito Finito tutto il gioco Devo rifare tutto Adesso Grazie per la soluzione Ma Mamma mia Tanto lui si rialza Subito Guarda eh Togliti Eccolo là Cioè Non prevede neanche Un minimo errore Io mi voglio uccidere È veramente Una merda Veramente Una merda Non c'è Non c'è Altra soluzione È una merda Che dobbiamo fare? Guarda che forse Uno me lo lascia E devo rifare tutto Game design Mamma mia Che schifo E che strazio Ho anche da fare Ok dai Buona Questa musica poi Guarda qui Ok Non me lo dire Guarda che l'ultimo Non ci arriva Troppo critico Siamo abituati Troppo bene Ci sono delle dinamiche Le vecchie giochi Le vecchie giochi Pazzono che ti Traspersi i capelli Vecchi giochi Esatto Non è che sono Troppo critico Il platforming È andato avanti Esattamente come Gli enigmi Se questa roba qua È vecchia e brutta Cioè Andava bene 20 anni fa Perché non c'era altro Oggi non va più bene Cosa vuol dire Troppo critico? Perché pretendo Nel 2023 Di giocare a un gioco Nel 2023 Ma questo è il 2022 Comunque Cazzo vuol dire Troppo critico Scusami Dovevo lanciarlo? Anche perché Adesso il gioco Non era così Quindi Andiamo Tiè Ok Ottimo Non è che Se un gioco Lo faceva 20 anni fa Allora va bene Ancora oggi Non andrebbe bene Neanche per un seguito Di un gioco Opla Bene Vediamo se Niente niente Ah ah Lo sapevo io Quei cazzo sapevo Sapevo un cazzo Lo sapevo Ah sì C'è una piattaforma Qui Ecco qua Ecco qua Fammi vedere un po' L'ultimo Ecco qua Preferisco Ok Tra l'altro Posizionare le cose È una merda Perché Premi E la battaglia E la battaglia delle volte Non va al tasto Uh che culo Però aspetta Qui Come si è messo Qui Ah fanculo Si è messo Qui Opla Fatto Questo gioco Non è mai stato Di questo tipo Così difficile Perché farlo adesso Ma infatti Ma non Non c'è Minimo senso È semplicemente Un brutto enigma Possiamo accettarlo E andare avanti Merda in ogni epoca Magari no Perché comunque In altri tempi C'era un altro tipo Di design E avrebbe funzionato Cioè Sarebbe stato diverso Oggi sicuramente Sì Cioè Porca vacca Eccoci qui Anche Super Mario È un paio di meccaniche Del cazzo Però un paio Effettivamente È quello che È invecchiato Meglio di tutti Ho sbagliato Però va Non mi frega Hanno sistemato Un bel po' di roba Alex È vero Però non l'ho più Più riaperto Via Cosa succede Cosa succede Però così Uno Come avrei dovuto capire Che il vermone Si addormenta Due Cioè Lo sto giocando Vi assicuro che il gameplay Vi fa pensare tutto Tranne alla possibilità Di poter lanciare un oggetto E infilarlo in un buco Zero Zero proprio Non vi sarebbe mai venuto in mente Giocandolo Anche Zelda Le meccaniche Potete evitarle All'epoca All'epoca sì Cioè Oggi Qual è stato l'ultimo Zelda Twilight Non mi ricordo No Skyward Sword Che abbiamo anche giocato Recentemente Meccaniche Lì Scomode Eh beh Erano tutte legate Purtroppo Al sensore di movimento Ma se intendiamo Quell'attuale Non c'è niente Che si salvi Quindi Poco da dire Ho ancora un interiore Guida turistica Da dirti Da darti Ok Ma non credo Che riuscirei A trovare il nucleo Del monumento A laser island No Perché Come sbrigatela da solo Sei uno stronzo Scusami Ah Ce ne sono due Allora Uno monolite Gentilissima No 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 Posso vedere il penone Vado a prendermelo Scusatemi Nat Arrivo subito Scusatemi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Correre, come avete visto, non corre proprio nella direzione giusta dove vorresti. Lanciare è faticoso. Quindi pensare di fare centro con quell'affare lì... Era veramente impensabile. Grazie a Finga per i 29 mesi e Tenchiaus per i 14. Buongiorno. Un rinnovo e un saluto al volo. Grazie mille. Comunque. Un monolite. Che sembra quello fuori da qua. E questo non l'abbiamo visto. Quello lì, non vi sembra questo? No, è vero. Poteva sembrare però. Diciamo che se avessi fatto i tentativi poggiando... Poggiando e ti fossi frustrato in meno, un lancio per provarci l'avresti fatto sapendo della piattaforma. No, ho capito. Sapendo della piattaforma però. Sto giocando su PC. Multi piatta sempre su PC. Ammazza che prezzi! 20! Mio Dio che male. Costano 21 e io ne ho solo 30. Ammazza subito! Perdente! Beh! Grazie a Gion 2021, buongiorno, sono al 44 come i nani. No, no. Erano cavalli. No, si pronuncia algo. Ma se lui non ha soldi? Mmm. Vabbè, tanto il cambio è uguale. In realtà il 3 è il più conveniente, scusami. Me ne dà uno in più. Joe, salve il gattone, chiedo una piccola benedizione per questa sessione che non accenna a finire. Tanti auguri! Grazie mille! E 3 è il più conveniente perché tutti... Pago uno, me ne danno tre. Con la tre pago tre, me ne danno dieci. Anziché nove. Dai! Abbiamo fregato il sistema! Bob 4005 ha fatto. Inserisco il coin. Uh, guarda qua. F0. E come si fa? Come si fa? Ho provato il grilletto. Ho sbagliato. Sono partito dietro. Il boost! I miei occhi. Stavo giocando in modo l'Arcade Paradise. Toglietti. No, bastardi! Cazzo come rallenta. Checkpoint! 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 Cazzo, non ci ho preso. People from the pizza. People from the pizza. Ho fatto 4.000 e rotti, no? Dobbiamo puntare i 5.000 noi. Oh! Fuck! Merdas! Oh! Eh, vabbè, ma no! Ma è difficilissimo! Eh, non ce la faccio. Non ce la faccio. Merda! Dai, ero lì! Cazzo! Gettonino? Gettonino? Cazzo! Tosta! Tosta! Ciccia, non scrivere F in chat. F è solo quando crash alla live. Mi raccomando. Questa è una cosa certificata. È obbligatorio scrivere F solo nel caso crashi la live. Ok? Mi raccomando. È una cosa che sanno tutti. Tutti lo sanno. P12, come gli apostoli, sperando di non essere sempre Giuda. Sempre migliori di 3. Un saluto a lei e un saluto anche a Giuda. Perché no? Che ci segue sempre! Sì, buongiorno! Siamo arrivati giù nel cielo! Lì, provate! E' una cazzata comunque, ovviamente. Era successo che è successo qualcosa in game e la gente ha iniziato a scrivere F. E lì mi sono incazzato perché non capivo. Perché a quanto pare era la live che era andata giù, no? E io dico, ma scusatemi, ma perché cazzo scrivete F? Non potete scrivere qualunque altra cosa? Perché in game era successa una roba che poteva essere... che doveva avere il senso, no? Con sta cazzo di F. E la risposta è stata ma guarda che su Twitch è universalmente riconosciuto il fatto che si scrive F quando ci sono problemi tecnici. Solo quando il live crash si scrive F. Solo per quello. Ed allora la dimostrazione del fatto che è una puttanata è che ogni volta che succede qualcosa altro la gente scrive F. Perché non è vero! È una cazzata! Solo che dopo sono sempre io che devo fare la figura del cattivo o dell'ignorante. Scizori, buon fine ferie, grazie... Di chi? Quali fine ferie? Grazie mille! Grazie Night Poison! Il gioco lo trovi in italiano? C'è una traduzione? C'è una traduzione ma la trovi su Steam. La scarichi dal workshop. Non è il workshop, però lo trovi. F sta per... Questa è un'ottima domanda. Adesso ti rispondo. Un'altra cosa che mi sta profondamente sui maroni è l'utilizzo dei meme senza conoscerne il significato. È una roba che veramente mi fa incazzare. Come andare in giro con la maglietta di una band senza mai aver ascoltato una canzone solo perché fa figo come i Kiss o i... i cosi, quelli con la lingua... i Rolling Stones pieno di gente che gira con la maglietta di Rolling Stones e non ha mai sentito una canzone. Cose così, no? Mi fa veramente... Odio pure Nirvana. Odio puro. Odio puro. È perché non sono fan dei Rolling Stones e quindi non... Dei Guns... Vabbè. Beh. F2F si preme perché c'è un famoso meme che deriva da Call of Duty per PC perché muore un personaggio c'è la barra devi premere F per portare rispetto al morto. Su PC è F. Odio puro. Odio puro è tantissimo. Tantissimo. Non ho detto quale code perché non volevo fare spoiler in diretto. Sembra canina come tradizione. Lo è. Se conosci da dove nasce. Se scrivi a cazzo F mamma mia che odio. No, ti preoccupare Blade. Esiste anche la X to Doubt vero di L.A. Noire. Io credo che abbiano giocato in quattro L.A. Noire. Però tutti a scrivere X to Doubt. Mamma mia che odio! Tra l'altro è divertente perché il meme della X di L.A. Noire si riferisce al tasto X dell'Xbox e non al tasto X della tastiera. C'è questa distinzione. F per rispetto della tastiera per PC X to Doubt di L.A. Noire invece deriva dal tasto blu dell'Xbox. Per PC bisogna anche un attimino andare dentro la lore no? Perché bisogna parlare di cose. No Bob lo devo superare devo fare 4.500 per vincere infatti adesso finisco la merenda e andiamo avanti. Comunque ripeto se la live dà problemi o quant'altro basta scrivere in chat ho questo problema super easy super easy perché scrivere F purtroppo vuol dire tutto vuol dire niente per lo streamer che ovviamente non capisce che cazzo sta succedendo F perché? Perché mi è caduto qualcosa? È caduto Todd Howard? Può essere però è troppo generico e io ti permabanno Esprit Invece guardate la W sta sempre per Wario come? Perché? Questo non lo sapevi questo proprio ok non è chiaro per me è quello che mi sta sul cazzo è per quello che mi ero lamentato tantissimo quella volta lì e la risposta che mi è stata data è stata il futuro adesso Old Man sempre per parlare per meme che viene da che viene da Future is now Old Man viene da dai che lo sapete dai che lo sapete era di era di era di grazie Rassome per i 36 mesi grazie Sirna per i 45 era Dewey Malcon in the middle bravissimi bravissimi esattamente e mi ero trattato come se fossi un ricoglione no i salti non li devo prendere i salti non li devo prendere più non li prendo più i salti i salti sono un'inculata non riesco a gestire la situazione del salto sono in rettilineo il salto mazza difficilissimo uh è anche questo male male gatto male ero partito molto bene prima scusa ma sono 2800 eh mi sono distratto adesso ma quanti punti ho fatto prima 3000 si nel checkpoint nel checkpoint spingimi ma come ho fatto a fare meglio di prima ci mette il disagio con le domande il primo mattino eh mi da più punti prendere i salti forse possibile cioè come ho fatto a fare più punti di prima mi sembri di essere morto uguale nello stesso punto no sapete cosa forse perché prima ero partito molto lento ed ero dietro a tutti adesso invece sono ero più davanti in classifica magari è questo credo non lo so perché mi fa strano che prendere più power up mi dia più punteggio e non riesco a guardare vabbè people from Ibiza ooooh 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 signori cosa ho tenuto Siamo in zona record, signori Sì che comunque mi pareva di aver perso Prima lì 5, 4, 3, 2 E vai di checkpoint 3,900 Dai, 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 dai Sì però qua se non mi dai una pista Eccola qua 4,700 Dai il campione Ok Ok Vai così Vai così Perfetto Bene Quindi Questo l'abbiamo fatto Poi 16.000 17.000 Dobbiamo puntare le 17.000 Jet rocket dynamite Che cazzo è? Che cazzo è? Il robotino è cattivo mi sa Io non lo devo toccare Presumo Ok Mica 600 punti Come cazzo faccio a farne 16.000? Devo prendere tutti quelli con la miccia accesa giustamente Cazzo Ha perso un cuore Ah Ecco qua Il caputana sua mamma È tosta questa? No Eh vabbè Però adesso ho una vita sola È tostarella adesso Ho capito però come si fanno più punti No Eh però è difficile Oh Vola questo stronzo Fa la mamma Vaccona Dall'alto devo buttarmi Si fa Ah Non ce l'ho fatta Figura di merda No ma è impossibile da prendere quello lì Ah E non ci arrivo Oh Uh E dai Ma non ci arriverò mai Non lo fa Ok Ma è difficilissimo Uh La palla gialla pulisce lo schermo Come avrei dovuto capirla Questa cosa qua Mmm Perché la palla gialla Io penso fosse un nemico Ah Ma non l'avrei mai capito Se non me lo dicevi tu Che la palla gialla puliva Scusami No Eh vabbè Eh ho capito io però Questa la devo prendere quindi Ah Li frizza Eh ho capito io però No Ah ma Ma me li posso anche mangiare Una volta che sono Ma come Scusami Quindi era un gioco reale Questo Gabriel Sai che non lo conosco proprio Bestia No Oh 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 Palla Palla Ok Ok Adesso cambia tutto però Eh fa l'effetto Pacman Sì 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 Va bene Grazie Che in realtà Un po' di train error L'avrei anche fatto Se non fosse che devo spendere soldi Che mi servono Essenzialmente Per andare avanti Nell'altro Cioè nel gioco vero Mmm Eh niente Non ce l'ho preso Bomb jack Mai sentito Beh è uguale quindi Con jetpack e tutto E io lì come passo No Vabbè Dopo Dopo La prendo dopo La prendo dopo Cazzo è andata giù La palla da merda Però Rimbalzami su Rimbalzami su Ti prego E andiamo Molto fedeli come porting Hanno fatto un grande lavoro Che bello Ma è lo stesso gioco Lo hanno modificato C'è proprio uguale Vabbè Bastardo No Ma come Mi ha preso Oh Ok Non è Non è game over Non è game over C'è la vita a zero Una cosa che Incredibilmente Ho sempre odiato Nei videogiochi Sapete Mi dà fastidio La vita a zero Vabbè ce l'abbiamo fatta Comunque Perché non so mai Non so mai Se c'è o non c'è Preferisco che Non ci sia così Ho due cuori Finiti quelli Ho perso Non è che non ho due cuori E poi mi rimane la vita Senza il cuore Perché mi confonde Molto poi Nei giochi Che invece Non ce l'hanno Però è una Una para mia Sicuramente Aiuto Vabbè Ma ricomincio a livello da zero Se mi hai toccato Minchia Bene Qui Abbiamo fatto Nanobrick 70.000 Il punteggio da battere Eci là Grazie per i 41 mesi Ah è Arkanoid E 57 come i giorni di ferie Che vorrei avere Guarda Anche io Anche io li vorrei Che roba è? Ha un power oops Spero di sì Tu devi essere eagle No si pronuncia Igo Scusa Ha detto extended time? Ho detto bene Che cazzo mi estendi Oh mamma Cosa cambia? Me l'ha ruotato Non ho vi Ah posso sparare? Ah ok Non sapevo carino Mi lasci power up? Eh niente Che fa? Oh mamma Mi mette Subbate Che si va al ristorante Grazie mille Speriamo C'è stato Dov'è che è? Un bel droppettone Stavo guardando A quanto L'ho Sì No L'avevo messo giusto Upsi Colpa mia Grande fan Di Arkanoid Invece Ottimo Questo power up Qui Ah ma Quelle cose lì Si rompono Quindi Quello Nero Ah Quello grigio Si spaccava Eh Non avevo mica capito Io Faber Phoenix Grazie per i 18 mesi So che Ah Forse c'erano due colpi Per spaccare il grigio Sì Ok Tu devi essere Igor No Si pronuncia Aigo Nah Però Ah no Faccio punti uguali Ok Quello dorato Non si spacca Ma che non mi ricordo mica Bravo Stai lì Che io faccio il lavoretto Qua sotto No Gatto Sei un coglione Olè E che forse Faccio meno punti Se faccio Il cazzone Così Non mi conviene Arca vacca Mi è sbrissata Facciare la collab Fortnite Lego No Bastardo E niente Niente Qua bisogna rifare Vabbè che tanto Abbiamo preso i soldi Quindi Novembre Max Aggiornamento Trasformano tutta la mappa In Lego Sarà più grande Restare il grafico Della storia Per un semplice evento Vabbè Come hanno fatto Nel DLC Di forza So che lì hanno Giunto una zona In più Qui lo faranno Tutta la mappa A tema Lego Figo 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 Ok Quindi sì Hanno trasformato la mappa Sì no no Infatti 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 Ah È diverso Che bello L'effetto Musica Tra l'altro In background La sentite È molto Bassa No Bastardo La musica Della sala Giochi Che voi sentiamo Tua Pim Pong Pim Pong Pim Pong Pong Fate incastare lì Grazie Non l'ha fatto Questa gran Stronza Pong Eeeh Cazzi nel culo Guarda Scusate ragazzi E' un momento abbastanza palloso questo Me ne rendo conto E che dobbiamo farlo purtroppo E niente Questo mi fa capire che alla fine Nessun gioco Non è che qualunque gioco Può andare sempre bene in live Questa è la gran dimostrazione Purtroppo questo è un mini gioco di un gioco Che però siamo costretti Ma non so neanche se siamo costretti E che diciamo che da come Il gioco si è posto Sembra una roba obbligatoria Però vediamo Mi deve lavorare per guardare Arkanoid Anche io ero un grande fan di Arkanoid Da piccolo Ci giocavo moltissimo su Game Boy Advance Eeeh Però non Non ci ho mai giocato Invece in sala giochi Perché lo trovo Un ruotore di cazzo Cioè Se devo spendere dei soldi Va bene Giocarci appunto sul Game Boy Advance Forse anche sul Color C'è davvero? Non mi ricordo Questa cosa qui Però L'idea del Devo pagare il gettone Per giocarci Anche no Anche perché mi sa che Non sono così vecchi E non c'erano nei cabinati In sala giochi Di Arkanoid No Gatto sei una testa di cazzo Sta trattenendo un botto Vabbè Comunque gli spettatori Sono calati Va bene Ci sta Non avendo una cosa Così strana Siamo 20.000 punti E ci siamo Praticamente roba fatta No? Sbagliato Non dovevo direzionarla così Però ho fatto un bel po' di punti in più In realtà Sto prendendo anche tutte Tutte queste cazzate Quindi Olè E anche questo Hola Reve un saluto Anche a lei Grazie per i sette mesi A voi sbloccherà L'infanzia Ma a me Le diottrie Sta uccidendo un pochino Sempre meglio di Qbert Comunque Se dobbiamo Parlare di roba Old Ah non si non panno proprio Queste qua? Stronze Però una volta che vai dentro Fa la vaschetta Ma è un re Stiamo uccidendo il re A morti reali Laserone funzionerà Non funziona Quindi tutto inutile Perfetto Inutilissimo 7500 Ci siamo? Ok Ci siamo Bene Bene Che vedo Proprio una parma Visivamente Poi è terrificante Bravo gatto Che gioco di mano Volevo fare giusto Qualche puntino in più Va Ah ce l'ho fatta Guarda Ok Direi che posso perdere Adesso Ciao fra Che bello Insolto i coglioni Se faccio le scie Basta No ho paura Che non mi salvi il punteggio Preferisco perdere No Cara Grazie per i 16 mesi Bene Bene Velvet 23 come i giorni Che mancano Per andare in ferie Si spera di seguire Un po' di più Grazie come ogni mese Per il trattenimento Grazie mille a lei E io vi ricordo Che tutte le donazioni In queste mattine Andranno in moderator Quindi donate 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 Yes Beh 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 Me ne mancano ancora un pochini E L'abbiamo risolto Ok Che ciò Dieci diamanti Ma sono smeraldi Va bene Uomo sfondo il muro Colpendolo con la testa Ma sono io Un film Biglietto del cinema Cinque Dai Paghiamoli Vediamo Aspetta che qua C'è un soldino Non è che niente Niente No Ok Metto davanti Preferisco Qua Secondo me Vinciamo qualcosa Se lo guardiamo tutto Sembra il trailer Del gioco No Spoiler Spoiler Non l'abbiamo ancora fatto Quello Spoiler ancora Non l'abbiamo visto Quello Il negozio di dischi Dobbiamo andarci Io spero che abbia avuto un senso a fare questa cosa però Ah se uscivi dalla zona morivi Non l'abbiamo fatto perché siamo giocatori seri noi Ma non l'ho fatto dell'oculista Ma non è colpa mia Posso fare così Non so quanto ti cambio Non mi pare Gabriel Secondo me è il trailer Per me è proprio il trailer del gioco Con una musica Aberrante Però è tutto Spoiler Ah guarda Ma io ci voglio chiedere Secondo me alla fine di questo Umbaradam Ci guadagniamo qualcosa Spoiler Eccolo Ci ha pagato 5 monete per Oh no È ripartito e basta È ripartito e basta No 5 monete per questo Ma che inculata Signora No Secondo me questo si raccoglie No Peccato Niente Scatta quando giro troppo velocemente il visuale Un drone Posso provarlo Sì Atterra sopra ognuno dei miei versanti In meno di un minuto Come si fa? E non so come si fa a abbassare la quota Però devo aspettare e basta Dove è l'altro? Un po' una merda però Scusami se non c'è un tasto per abbassarsi di quota Non se la farò mai No se la dovrei fare Dai vediamo Ok si Ok si 8 7 6 5 4 Ok ce l'aveva fatta E non ho guadagnato niente? No ce l'avevi fatta E non mi ha dato due soldini Ma vaffanculo Immagino Te lo spacco Tiè No Ah sì Grazie per i tre mesi Eh Il prossimo film è in 3D Ah sì Mi ricordo Io ho preso nel culo in 3D Micro arcade Travel Lui ci ha parlato? Eh no Sì ci abbiamo parlato I dischi Allora noi possiamo permetterci Due nuove isole Cosa facciamo? Non è che un'immagine La galleria d'arte Io dovrei averne di foto Magari me le paga Salve Sì Era una bugia Sto cercando un fotografo Beh 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 Sì Foto e ritratto Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho No in attesa dell'ascensore Che conosciamo in attesa dell'ascensore? Brava signora Grazie Lo volevo proprio Se costruisco un'arena sul server Si potrebbe fare un live di combattimento nell'arena? Va bene Dove fare una battle royale Per il mio giubilo Bene Lui cosa mi fa fare? Lui mi dà dei soldi Solo ai veri atleti Eccolo Ma basta Ma questo razzismo Verso i miei vestiti Io non lo capisco C'è ci sono i dischi Fun Fun Mini Golf Faster Mix Art of Balance Quanto cazzo ne ho bevuta? Buon Provo a vedere E quelle Perché ne abbiamo tre Ce ne possiamo permettere solamente due Natura e lo stato selvaggio Tradizioni indigene Affascinanti E sono un museo Interamente dedicato ai monumenti Provo a prenderne uno Molto bello Le figli Però voglio tornare indietro Intanto a vedere se fotografare il tipo Che credo di aver capito dov'è Forse No scusami Scusami Ok Qua A Ibiza c'è un ascensore Magari c'è uno Che lo aspetta Buongiorno C'è qualcuno qui Che attende L'ascensore Porca vacca No No Però c'è Dave Io una foto a Dave Ve la faccio Me ne era un po' preventiva Farei una foto un po' a tutti Non mi posso fare i selfie Ho capito adesso che è un tipo che sta cagando quello lì Vale no Vale no Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Tutto bene Tutto bene Tutto bene Non sono stato di qua E c'è un soldino Lo vado a prendere Rinnovate tutti E punto esclamativo Telegram Per entrare nello straordinario E simpaticissimo Gruppo Si sono perdita il canale Ma invece è un gruppo Telegram Dove ci sono tutti gli altri sub Non tutti tutti Non ci sono proprio tutti C'è un po' di gente però Dai No non ci riesco Grazie a Darken Per i 22 mesi Vi ricordo le donazioni per i mod No Grazie Reggio Per le 5 sub Ringrazio a tutti Reggio Tu devi essere io No si pronuncia Anco Tu devi essere io No si pronuncia Anco Eccoci qua Allora Torniamo Ah si mi ricordo Oh La turista Oh Siamo in dirittura Per il pranzo fuori Eh Siamo in dirittura Gabri Pronto a passare l'estate con lei Grazie mille Oh Qualcosa mi vende Salta Mentre se colmezzare Prima non lo mette Ah Game changer Questo Per quel soldino Lì Eh Eh si Eh i baffi Ci abbiamo provato Ma non abbiamo raggiunto L'obiettivo Che dobbiamo fare Io ci ho provato Io ve li do gli obiettivi Però Eh Perché non hai scattato anche l'isola Prima non ho capito Ma sono dei panini giganti Quelli Perché Tamburista Nasco tamburista Nasco tamburista Donkey Konga Papaparara Donkey Konga Se non fosse tutto copyright Donkey Konga Ve lo sopporterei in live Cheio di Porca Porca Eh ma è difficilissimo Eh non è per niente a tempo Non è Poi fa sempre suoni diversi Ma come si fa a farlo? Uuuuh Io non ne ho idea eh Non è vero Non è vero Vai dammi i soldi Ok me ne mancano ancora un po' Un bel po' Quante ne ho comprati di cosi? Uno E allora me ne manca un bel po' di roba Aspetta che posso fare così Il problema era Quando ce ne erano due vicine Che non sapevo come comportarmi Perché Credo che me ne prendessi assieme Che posto unico Mi piacerebbe andare in un posto così Tantissimo Tantissimo Ah è un museo questo C'è cazzo però Oh Le pergamene del monumento sono antichi Disegni dell'origine sconosciuta Vecchi amano scritti e affermano Che si possono trovare in luoghi nascosti In tutte le isole E sparò questa pergamena in una delle vetrine vuote Bene, mi dai dei soldi? Sì, mi dai dei soldi Pochi ma buoni Arrivederci, signore Oh, aspetta che Quella è una roba da fotografare Lifty va Tornate insieme Vi ricordate di quell'epoca che fu Avete visto che foto straordinaria Quelle ho fatto Info, arombingo Se sale la scalinata potrò osservare Lift a monument Va bene Non si faccia spaventare a qualche scalino Mi dice la signora Ma Io spaventare Ma non ho mai avuto paura in vita mia Salve Il canone fino al lift a monument Ma il nostro zio ci darà una pagaia Solamente se riusciamo a superare la prova di canottaggio Posso provarla anche io la prova di canottaggio? Salve Posso fare la prova di canottaggio? Avete parlato i miei nipoti? Sì Non credo che un turista abbia l'abilità giusta per superarla Oh, devi stare tranquillo, eh Sì Tutto in meno di un minuto bisogna fare I tasti I tasti Ok Come mai è successa questa cosa qua? È dove è? È dove è? E dove è? Eccolo È scomodissimo Sapete che il Sea of Teens è molto più caldo? Che paura! Quanto è alto questo volume? Grazie Roby Grazie Roby da parte dei mod Un abbraccio A distanza che fa caldo Ai bellissimi mod Eh, non ce la faccio ma Perché mi sono perso all'inizio Adesso li facciamo Farco, 22 mesi Remare real life è difficilissimo Me lo immagino Grazie mille Oh, gatto Sì, è un déficit Sì, è un déficit Sì, è un déficit Sì, è un déficit Eh? Accetto la pagaia Pagaia Per canoa E me la sono infilata dritta nel culo Poi Qui che c'è? Chi ci abita qua? Ti rubo i soldi Ti rubo tutti i soldi Tutti i soldi segreti che avevano Li dormo sul letto E vado via Vedete delle bottigliette? Io non vedo delle bottigliette Spero di non dover andare di qua con la pagaia Osto Se lo faccio? Speravo Vabbè Vado di sopra e vedo un po' che succede Che poi loro vogliono usare la pagaia Per arrivare lì Non ho fatto così tanti scanini Dai Ok Ma l'ho già fatta la foto Devo proprio usare quella lì Io non ho mai fatto canottaggio Lo vorrei fare perché c'è un'esperienza sul sile Dove lo puoi fare No No Non si può fare Oh cazzo Forse non ci posso entrare qua dentro No forse ci arrivo da lì Aspetta Non è che col doppiello Con il doppio salto Forse da qua Guarda Ecco qua Eccomi qui Oddio c'è una sequenza secondo voi Se c'è una sequenza non Non l'ho vista Merda Cazzo C'era la sequenza Lì in alto C'era la sequenza Lì in alto Non me la ricordo Senza che rifaccia indietro la cosa Mi potete recuperare la live C'è un disegno Vediamo se riesco a farlo io Eh cazzo Grazie al vaccallo per i 42 mesi Vediamo un po' qua Tu devi essere Igor No se lui non c'ha Igor Eccoci qua Oddio sapete che non capisco neanche con il coso? Ah ah No Credo che sia una roba tipo Così E Così No No Non sono sicuro Sia giusto Per niente No Forse non c'entra niente Perché fa il bip fa Ah forse fa il bip in quelli giusti Quindi questo 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 E questo Questo No era questo E questo Vediamo No No Ma è difficilissimo È Difficilissimo non prenderli tutti Questo E questo No Ok Beh Sul lago ti conviene all'inizio Cosa? Quale lago? Sarà mica back sitting questo Distruggi opere d'arte Sì poi dopo arriva il tipo del comune che si stema Olè Capocciate Capocciate No Vandalo Ah se devi fare canoa Ok No vabbè Adesso Con calma Vorrei Capire che cosa mi sfugge Ci provo Robby Grazie Oh Non capisco Mi sfugge qualcosa Cos'è? Cos'è? Cos'è con l'8k? No raggiunge il 4 C'è passaggio sopra il simbolo? Non mi pare sai Però Proviamoci No Veniva fuori scritto Apri Ma vaffanculo Ma che merda Dovevo usarli proprio come Vabbè E adesso? Tu lascia fare Sperti che è bello No Adesso però sono bloccato qui Eh ma ricompare Eh Eh E Qua sembra ci sia un'altra piattaforma Eh E che cosa ho capito adesso? Forse qui a sinistra anche ce n'è un'altra No Boh Cioè che cazzo sai venire qua? Forse devo accendere tutte Ah Forse le devo accendere tutte Ho capito Mazza Che schifezza Va a cagare vai Che vecchiume C'era un gioco così Del re leone Cioè prima c'è quell'enigma lì Adesso c'è questo Ok No l'ho lasciato Adesso ho unito due enigmi F*** F*** insomma vabbè no no si vedono le ho viste le ombre in acqua dove ci sono le robe non avevo capito che bisognasse risaltarci due volte pensavo ci fosse un extra di là tutto lì andiamo a vedere se stoppo qualcosa facendo questo bello devo andarci in testa forse ah forse quando non mi trova mi cerca esce fuori solo quando sono via no non è vero devo usarlo per uscire non esce se li sto vicino ok eh ci sto provando cabri non riesco e vedi che sparisce comunque ma ho capito che sparisce da me non è che se vada dalla parte opposta cambia qualche cosa non so cosa fare una volta che lui compare poi ah ok lo potevo vedi queste robe qua io non le capisco proprio come avrei dovuto capirlo come avrei dovuto capirlo che lo dovevo investire scusami eh no e dai che palle però ste cose comunque ho lisciato l'ho fatto per frustrazione e l'ha funzionato eh ma fa cagare però così no gabriel non è una mossa schiantarmi contro un nemico non è una mossa non mi è mai stato non l'ho mai dovuto fare ci ho sfondato dei muri ma era un'altra questione quella anzi gioco mi ha appena insegnato che devo saltare in sopra le cose e quindi io volevo saltargli in testa è quello che mi ha insegnato il gioco saltare sopra le cose grazie Aurora da parte dei mod eh no non ho caricato bene grazie Bricks per i 42 mesi ho una memoria di ferro io l'ho visto qui intorno che cosa vuole sapere anche perché adesso devo fare questa cazzata del web eccolo là voglio l'altro voglio l'altro voglio l'altro ok porca miseria tu devi essere igolo no si pronuncia AIGO ok no secondo voi me ne bastano due non vedo niente si ne bastano due cioè capite quanto è un problema la fisica di questo gioco e adesso devo andare di là ok ecco qui eh no devo forza farla a mano olè chi ho grazie per i 39 mesi comunque con tutti i suoi pregi i suoi difetti fortunatamente più pregi tre ore sono volate eh cioè per me tre ore sono volatissime non mi ha lasciato la canola vaffanculo è molto carino esatto è quel giochino da ombrellone il classico gioco che uno si gioca sotto l'ombrellone domani secondo me lo finiamo pure non credo sia così longevo è un giochino due ore cinque ore ma infatti clic grazie per i tre mesi buongiorno buongiorno a lei grazie e alcuni enigmi sono proprio una schifezza gioco da steam deck ma anche da switch assolutamente da switch qual'era era questo? no era questo va bene c'è per switch? sì per switch ha direttamente l'italiano senza doverci mettere dentro nulla su deck lo dovrete giocare in inglese a meno che non sappiate dove andare a mettere le mani no la console portate senza troppe pretese ma sono assolutamente d'accordo si potrà salvare secondo voi? ah salva e torna al menu eccoci qua sì sono al 40% domani lo finiamo sicuramente però molto 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 carino devo dirvi veramente molto carino costa suoi 16 euro e 79 super zoo story eh ma ce l'ha l'italiano? perché mi stanno bene i giochi di quel tipo lì però se non hanno l'italiano ce l'ho in lista eh ma non è uscito però scusami e che consiglio è? non è uscito e non ha ancora l'italiano c'è Orange Season che mi attirava molto ma è ancora in accesso pure quello vediamo un po' eh eh qua dicono metteremo nuove lingue l'italiano sarà tra quelle quando uscirà dall'accesso no si pronuncia però chi lo sa quando uscirà dall'accesso boh fan te il 28 mesi il tempo vola quando ci si diverte grazie mille eh Summer of Mara è vero Summer of Mara stesso discorso boh che poi dai gli stessi sviluppatori Summer of Mara doveva uscire un'altra roba che sembrava carina no questa è un'altra roba ancora niente così gruva è carino sì però non è da live Funtel ti ho già letto scusami sempre meno ita eh sì mi tira il culo per Love Morning Simulator perché quello aveva Unity e con Unity li potevo tradurre i giochi a quanto pare non quello poi ne ho preso anche un altro che si chiama Hydronir e quello all'italiano sembra molto caruccio magari proviamo Hydronir nei prossimi giorni però non so se è bello Pecan Tear poi mi rimetto così ho trovato niente aspetta Pecan Tear eccolo qua ostia eh questo qua però vi uccide gli occhi a voi ha un problema di Reddit Player in chat Hydronir perché 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 bisogna ottimizzare pure lì va bene Gabriel abbiamo fatto 47 ore su Graveyard che bello è stato molto bello Graveyard è un gioco anche un gioco così mi andrebbe bene sì Stardio è stato bellissimo Graveyard è stato bellissimo sì il problema dei DLC di Graveyard è che cioè devi ricordarti cosa dovevi fare dove eri rimasto e non mi piace giocare i DLC di giochi che che ho già bello che è finito perché poi non ti ricordi niente guarda ad esempio anche con Outer Worlds no Outer Worlds è uscito del si è dovuto rigiocarmi il gioco non ci abbiamo capito una madonna quindi no non aveva l'italiano Dorian ed era molto old 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 school e e un circulateur del creatore di Stardio siamo ancora in attesa Sunheaven era un po' un'artura di cazzo l'abbiamo provato eh ne hanno presentati tanti di giochini così è vero però non non esce nessuno stavo pensando di di provare coso quello oh cazzo questo qui è l'italiano Farward Pioneer è uscito il 30 maggio recensioni per lo più negative perfetto perché perché gira de merda mettiamolo in lista l'unico che aveva l'italiano Spirit Fair non è giocato no lo finiamo domani Foxy poi cartel Tycoon State of Rogue sto guardando i giochi di Tiny Build che sono in sconto Node 4 Broadcast è un gioco che sembra molto molto figo però quello lì l'italiano è proprio essenziale invece madonna hanno fatto Lovely Planet 2 cazzo che mi segue da tanto Lovely Planet l'ha visto qui non lo sapevo del secondo Ruzzo Fpaccia ho anche quello e l'ho tradotto l'ho tradotto quello lì dovrei avercelo in italiano vediamo fammelo trovare eccolo qua non so perché non l'ho avviato quello lì non me lo ricordo sinceramente perché è uscito ma vedo un roadmap qua sì che è uscito dall'accesso ma ci stanno ancora lavorando quindi cosa si deve aspettare uno c'è gente che chiedeva l'italiano di quel di Ruzzov Patch non ne hanno nemmeno risposto no non faccio così ho un tool ho un tool che nel caso di Ruzzov Patch non so neanche se sto utilizzando quella versione più ottimizzata vediamo è che era scritto non funziona più il tool cazzo non funziona più il tool che storia infatti non oddio hanno rotto l'autotranslator è per quello che non mi ha tradotto all of mourning io Roots of Patch l'avevo tradotto sto sicuro ero in italiano oh oh non lo sapevo no ok cosa è successo di strano ok ok che è in inglese adesso si traduce quello che esce esattamente se volete possiamo provarci che però non funziona questo tool con low mourning per qualche motivo scusa se io lo riavvio così adesso non è che me lo traduce finalmente musichina era molto catchy molto bella ok funziona beer and breakfast non era era in accesso anche quello ok all'italiano perfetto low mourning invece proprio non gli è piaciuto in alcun modo ci ho provato non gli va proprio bene non si vuole avviare con la nostra lingua e che dobbiamo fare va bene allora ci vediamo stasera con Together B&B e mazza no vedete l'owning non non si è tradotto non ha proprio voluto è uscito per un breakfast mi paremmo fosse ancora freddo domani finiamo le tour stasera appunto Together B&B e vi mando dei termos e diciamo buon lunedì va bene è stato un piacere continuate a donare per i moderatori durante queste mattine e noi